in questo nuovo video tutorial vedremo come realizzare un bellissimo sotto tazza o sotto bicchiere per le vostre tavolate natalizie quindi perfettamente a tema allora per cominciare vi occorre come sempre un filato per uncinetto numero 3 rosso e verde ed eventualmente un ciocchettino finale decorativo per cominciare lavoriamo il nostro soldo cerchio magico e all'interno del cerchio lavoriamo prima 4 catenelle quindi 1 2 3 e 4 dopodiché 17 maglie altissime quindi per un totale di 18 1 2 3 3 5 5 6 6 7 7 8 7 9 10 11 12 12 12 15 15 15 16 16 16 16 17 18 17 18 19 20 12 13 15 15 e 17 e 17 una maglia bassissima sulla quarta catenella per chiudere quindi il nostro cerchio e ottenere quindi la base per il nostro sottobicchiere quindi una maglia bassissima ecco il nostro cerchietto a questo punto passiamo al verde e lavoriamo un aumento in ogni punto sempre di maglia altissima ci mettiamo il verde in questo modo quindi lavoriamo prima le nostre solite 4 catenelle e successivamente una maglia altissima nello stesso punto e un aumento nei punti successivi quindi 1 2 3 e 4 una maglia altissima nello stesso punto e poi nei punti di sempre due maglie altissime ogni punto quindi una e due quindi dovremmo avere un totale di 36 maglie altissime nel giro successivo io ho già concluso questa parte e il risultato è di questo tipo adesso non ci resta che concludere l'ultimo giro lavorando così quindi agganciamo di nuovo il rosso e lavoriamo le nostre solite 4 catenelle iniziali per realizzare la nostra prima maglia altissima quindi 1 2 3 e 4 questa praticamente la maglia altissima poi lavoriamo 3 maglie alte nei punti successivi quindi 1 2 3 e 4 1 3 e 4 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 4 2 2 3 3 1 4 4 e quindi sarebbero un totale di quattro maglie altissime considerata la prima maglia alta delle quattro catenelle ora un aumento quindi due maglie altissime nello stesso punto uno e due un altro aumento quindi due maglie altissime nello tutto successivo poi per realizzare l'angolo dobbiamo lavorare nel punto successivo cinque maglie altissime quindi uno due tre quattro e cinque poi successivamente lavoriamo un altro aumento quindi due maglie altissime nello stesso punto e ancora un altro aumento dopo un aumento quindi due maglie altissime e altre due maglie altissime nel punto successivo e quindi abbiamo realizzato l'angolo adesso dobbiamo ripetere il processo per ogni lato quindi lavoriamo quattro maglie altissime di nuovo un aumento un altro aumento cinque maglie altissime un aumento di un altro aumento e così via quindi a fine giro avremo il nostro sottobicchiere così alla fine se volete decorarlo con qualche fiacchettino perlina insomma a vostro piacimento il risultato è di questo tipo il risultato è di questo tipo